L'attività di apicoltura è sicuramente l'attività agricola più green in assoluto, in quanto le api sono davvero quanto di più efficiente e prezioso possa esserci nel rapporto con la natura. Non sottraggono nulla, anzi donano alle piante la loro attività di impollinazione e l'apicoltore, così come le stesse api, beneficiano del miele, del nettare e di tutto quanto possono fornire le piante in buono stato di salute. Per ogni singolo apicoltore, ma ancora di più per una cooperativa, la qualità del prodotto è l'elemento fondamentale e il presupposto per la commercializzazione. Possiamo dire che negli ultimi anni le capacità analitiche dei laboratori sono aumentate moltissimo e la cooperativa beneficia di queste possibilità di analisi per garantire davvero la qualità del prodotto verso il consumatore, ma anche nel rapporto con i suoi soci, in quanto ogni analisi permetterà davvero di verificare che ogni singolo socio lavori il proprio prodotto nel modo migliore possibile.